RISCONDE MENCHI SPACCHIO SI RISCONDE MENCHI SPACCHIO SI RISCONDE Prondo? Prondo, buongiorno casa Struppone Si chi parla? Lei è la signora Struppone? Si sono io, metteca Buongiorno signora, qui parlano i carabinieri di Spagnotto Marina San due cielo che ha successo? Purtroppo devo dargli una brutta notizia Suo marito è stato colpito da un fumene Un fumene? Ma come un fumene? Ma perché sta a piovento? Purtroppo si Minchia, veste subbucato Avele mezzeri